Allora sono qui in Xdesign e voglio sezionare questo perché ho fatto questa estrusione con funzione sottile e voglio sezionarla per vedere come ha fatto. A questo punto vado a selezionare il piano, vado qua in vista e vado a prendere seziona, ok? E qui io giro questo perché lo voglio da questa parte qua, giusto? Però non fa perché io, vediamo se inverti direzione, no qua? Perfetto e chiudo. A questo punto io ho la vista sezionata e posso vedere tranquillamente all'interno. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima a rivederci. Dunque vista e questo, vista modifica sezione, ok? Vista sezione. Comunque è in vista, è in view. Vabbè, ci vediamo.